Ma no, è una one shot perché vince un'altra bottiglia Devo prendere il loot, ve lo giuro, però vince un'altra bottiglia Cioè, io mi ricordo che l'unica altra volta che ho giocato da Nd era una one shot d'era Infatti siamo riusciti a finirla in due sessioni Wait to reach Wait to reach Please Cazzo Cazzo, cazzo, cazzo Ah, quella mappa che è il tarpen trovato Eh È vicina, sono auto qua durante la Nd Quanto cazzo di roba c'è in quella mappa Ti faccio a mezzo mondo Ehm 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 Metto un garafrio Ehm 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 Basta bilanciare il boss finale Ehm Metto 3 troll 4 draghi 100 goblin Ed è una fight bilanciare Poi il blocco Gli sbilanci. Fall. 5% Perché... E... C'è anche la villa perché la villa si trasforma in una specie di tante, tutto così. E noi invece di uscire disattivando del capito E non è neanche stata la mia idea perché io avevo un mago di merda Era bellissimo. Era tipo un orgo un fregone. Tipo... Mi si rimanissima di comunque andare perché era un orgo E... La cosa divertente era tipo che continuavo a fare bloc a persone per 5 sfide di fila e continuavo a mancarlo. Cioè io tipo sciopero con la spell dicendo ah la spell definitiva erano tutti e me la resistevano, io la dobbiamo pianta con le bloc a persone. Guarda che c'è ancora un po' del calzo. Ancora due ore del calzo. A morire. A morire. Pumquè... Stavo guardando l'immaginazione di achievement. Oh... A morire... Omm... Cosa è? Basta arrivando con il barile. Io ci provo. Se mi è molto vicino io ci provo con il barile. I fai le Palestron... Estò esplodere troppo vicino perché hanno le blediche di Lianida. Per me neanche... Guardi un disco ne ha, no? Eh, shit! Non ce la faccio. No, non per me. E' proprio un giro. No, non per me. In realtà, per me subito.